Una distribuzione di Kubernetes prende tutte le funzionalità di Kubernetes e le estende con componenti aggiuntivi per coprire l'intero ciclo di vita del software. OpenShift consente di impostare un processo che parte dal commit dello sviluppatore sul proprio repository sino al suo funzionamento nell'applicazione di produzione. Tre sostanziali elementi. BuildConfig, DeploymentConfig, Root. BuildConfig per definire le strategie di compilazione e rilascio delle applicazioni. DeploymentConfig per regolare le modalità di innesco di nuove applicazioni. Root per agevolare la gestione dell'esposizione delle applicazioni. Sì, se l'esigenza è quella di utilizzare un singolo strumento che possa curare l'intero ciclo di vita del software, con strumenti nativi per impostare la continuous integration degli stessi. No, se ciò di cui si necessita è la semplicità. OpenShift aggiunge uno strato di complessità a Kubernetes in termini di gestione e manutenzione.